Ben ritrovati dalla redazione di Foles Multimedia e in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna, possibili rallentamenti per lavori con corsie di destra chiuse tra Firenze e Imprunete e Firenze Scandici, chiuso lo svincolo di Firenze e Imprunete in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna. Rallentamenti da Badia e l'allacciamento A1 variante in direzione Bologna. In FIPRI per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Stassigna, possibili rallentamenti e code con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. Chiuso per lavori programmati lo svincolo interporto Toscano-Ovest in entrambe le direzioni. Si ricorda che per lavori sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo Siena-Sud in direzione Firenze. A Firenze, incidenti in via Accademia del Cimento, in zona Nuovo-Liguidoni e in via Gori, zona peretola con ricadute sul traffico nelle zone relative. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Legione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!